I cinque progetti che caratterizzano il nostro programma e il futuro della città sono i seguenti. La spezzaforte per il recupero delle fortificazioni da metà 800 in poi, come ad esempio il rifugio anti-aereo schienato a Quintino Sella, che i lavori sono già in corso, il recupero della batteria Valdilocchi, ma dovremmo occuparci anche del recupero del forte di Montalbano e del forte Parodi. Il recupero della storia medievale della città dal 1343 in poi, quindi progetti sul Castello di Coderone, il progetto sulla chiesa di San Martino e gli altri luoghi ancora riferibili al periodo medievale. Poi la spezia green, il secondo progetto fondamentale, la città sarà servita da filobus, 22 filobus, nessuna più emissione in atmosfera. E non solo questo, nuovi sistemi semaforici, nuove fermate degli autobus e il nuovo sistema raccolta differenziata che sarà ampliato a circa il 90% dei nostri concittadini, con l'obiettivo di aumentare sensibilmente la raccolta differenziata. L'altro progetto importante sarà il Waterfront, dopo 131 anni il Waterfront torna all'organizzazione urbanistica, ci sono tre manifestazioni di interesse, ora seguirà la fase progettuale, entro ottobre ci saranno le proposte sulle quali pianificheremo su cosa verrà realizzato sul Waterfront. Poi la stazione di Migliarina, da dove partirà il 5 Terra Express, quindi basta pullman turistici in 100 città, ma partiranno da Migliarina. I lavori iniziano a settembre, 18 milioni e mezzo di RFI e la parte invece esterna della stazione sarà riqualificata da noi con nuovi parcheggi e nuovi servizi. Poi abbiamo il tunnel di Valitalia, una rivoluzione positiva per trovare definitivamente la soluzione per i parcheggi in 100 città, circa 400 parcheggi saranno realizzati e saranno collegati i giardini al mare. Sostanzialmente il 100 città sarà collegato al mare con un unico passeggiato, un unicum con i giardini e realizzeremo anche i famosi agognati parcheggi che sono tanto necessari per definire una volta per tutte e far vivere una volta per tutte il centro città, i suoi servizi e tutelare il commercio.